Il cambio di passo in Casavellino dopo Monterosi è evidente anche in termini di reti realizzate se si considera che nelle prime sette gare di campionato i Lupi avevano il peggiore attacco del torneo con soli 4 gol. Nelle successive sei partite disputate dove Aloy e compagni sono imbattuti con 12 punti inanellati, i gol siglati sono stati 10. La squadra di Braia, grazie alle segnature di Sbraga e Maniero, è anche quella che ha mandato in rete il maggiore numero di giocatori diversi. 11, Dossena, Silvestri, Sbraga, Tito, Carriero, D'Angelo, De Francesco, Di Gaudio, Gagliano, Plesce e Maniero è il record per i biancoverdi che hanno superato anche il Bari fermo a quota 10 al pari del Potenza. Inoltre i Lupi sono andati in gol con tutti i reparti, 5 reti della difesa se si considera che Tito in questa stagione ha agito spesso da terzino, 3 della mediana e 6 dell'attacco. Nessun gol di sinistro fino a questo momento, 3 invece quelli di destra e altrettanti di testa e un Avellino inoltre che segna soprattutto nella seconda frazione. Infatti nei primi 45 minuti di gioco sono solo 5 i gol realizzati, 8 tra il 46esimo e il 90esimo e 1 in pieno recupero con Gagliano contro la Paganese. Inoltre l'attaccante Scuola Cagliari con il 21,4% è il giocatore che ha partecipato maggiormente alle reti della squadra erpina. L'uomo assiste in casa a Biancoverde, Tito con tre passaggi vincenti, con 1170 minuti inanellati ad oggi, forte è lo stagano vista dell'Avellino. Il portiere calabrese è stato sempre presente, non perdendo nessun minuto.